Mentre il PDL e la Lega siglano un patto che sembra essere il patto della disperazione, noi del Partito Democratico stiamo facendo liste che sono le liste di chi pensa di vincere e governare il Paese. Ecco perché oggi, con grande orgoglio, è per noi un onore avere in lista con noi Giampaolo Galli, grande economista e soprattutto uno dei protagonisti dei patti tra le parti sociali del nostro Paese negli anni scorsi. Per noi è l'impegno a fare della prossima legislatura la legislatura del rilancio economico del nostro Paese. In questo senso la candidatura di Giampaolo Galli è esattamente in questa direzione. Occupazione, crescita, lavoro, imprese, credo che questi siano i messaggi forti. A questi messaggi Galli nella sua attività parlamentare dedicherà molto impegno e noi ovviamente siamo molto contenti di questa scelta che lui ha fatto.